caro Maurizio Ferrarita siete entrati con i vostri genitori qui in chiesa ma non uscirete con i vostri genitori ma uscirete voi due voi due che siete un solo corpo e il Signore che vi chiama a questa strada che è lunga non è perfetta la portate voi in perfezione vi dia il Signore tanta gioia e tanta bontà perché possiate sempre rallegrarvi nei vostri figli nei vostri amici nei vostri genitori nei vostri parenti grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.